buongiorno sono simone grospietro chef della rampolina di campino di stresa oggi vi propongo per listo golf il nostro risotto al bettemat con nocciole risotto mantecato al bettemat tipico formaggio piemontese della val d'ossola pasta molto morbida stagionato e molto grasso e alla fine aggiungeremo delle nocciole di gp piemonte tostate sopra